Quanti terremoti hai sentito? Quello del 72, quello del 79, quello del 97, quello del 2006 e questo del 2016. Viene le cose belle che ci stanno qui, le terme. Poi ci sono tante belle storie da raccontare. Oh! I lupi di Pito! Sì! I zanni di Umito, buono lo so. Nazmarello, perché ci stanno? Ci dobbiamo tanti, spiegando i piccioni, che ne so. L'osso di Umito. Cioè quelle poche persone che sono rimaste lo hanno pagato e lo stanno pagando sulla propria pelle. E poi perché sono abituati veramente a porciarsi le maniche e quindi contando il sacrificio che non so quanti di noi sono capace di farlo. Molto." Grazie a tutti.